16 persone lievemente intossecate, di cui 9 portate negli ospedali Gradinigo, San Giovanni Bosco e Maria Vittoria. È il bilancio dell'incendio che è divampato questa sera, venerdì 11 gennaio, poco dopo le 21.30, in un condominio situato in Piazza della Repubblica 16 a Torino. A bruciare un cumulo di oggetti stipati al piano terra della palazzina. Il fumo si è levato in alto raggiungendo diversi alloggi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Torino, le ambulanze della Croce Verde e Croce Rossa e i carabinieri del nucleo radiomobile. I condomini sono stati fatti evacuare temporaneamente. Spente le fiamme, una volta andato via il fumo, sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Accertamenti in corso sulle cause che hanno fatto divampare l'incendio. Grazie.